Noi di Teleiato oggi ci troviamo a Villa Grazia di Carini in un bene sequestrato alla mafia. Siamo in compagnia del direttore Briganò, il dottore Palumbo del 118 e insieme al sindaco di Carini, Giovi Monteleone. Direttore, cosa sta succedendo oggi di bello? E allora, cosa sta succedendo? Ieri abbiamo fatto una riunione a Palermo presso il Dipartimento di Cure Primarie con il responsabile dell'UOC, il dottore Vizzi, con il responsabile della centrale operativa, il direttore Genco, il direttore distretto e sottoscritto, per vedere se c'era la possibilità di trovare una sistemazione al 118. Abbiamo chiamato il sindaco di Carini per vedere se c'era la possibilità di trovare un edificio di proprietà del comune e diciamo che ci ha detto di soprassedere qualche giorno per verificare la possibilità di trovare la soluzione. Nel giro di 24 ore ci siamo risentiti, mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un edificio, qua ora dove siamo in questo momento, Via Nazionale 312, che è un edificio che mi sembra che è stato sequestrato alla mafia, che è adibito a un centro per anziani, ma che momentaneamente non è funzionale e ci ha dato questa possibilità di ubicare il 118 temporaneamente nell'emore che si intervenga per la manutenzione delle stanze dove sono momentaneamente allocate, per la viabilità e per la manutenzione delle stanze, perché c'è una situazione veramente penosa in questo momento. Da oggi infatti stanno intervenendo i muratori per la manutenzione, perché c'è un tonaco che è crollato, bagni che sono fatiscenti, stanze o bisolete e quindi stiamo intervenendo già da oggi per la sistemazione del tutto. In questo momento c'è il sindaco che ha chiamato tutto lo staff tecnico, i vigili urbani, perché qua c'è bisogno intanto di liberare queste stanze, che sono veramente nuove, accoglienti. E quanto tempo gli chiederanno? Noi abbiamo dato un tempo massimo, fino al 30 settembre, poi se c'è qualche giorno in più... Per liberarlo? No, il 30 settembre per la permanenza del 118, per liberarlo nel giro di questa settimana già si trasferisce il 118, però in via temporanea si trasferirà presso questi locali. Abbiamo dato un tempo di tre mesi circa per dare la possibilità ai muratori di poter sistemare le stanze. Ma rimane il problema viabilità? No, ma penso che in tre mesi anche il problema della viabilità viene superato. Non penso che in tre mesi di... Poi c'è il periodo estivo, quindi penso che c'è una continuità dei lavori. Non ci dovrebbe essere soste perché il tempo va migliorando. Di conseguenza anche il sindaco si prodicherà affinché i lavori abbiano una certa celerità. Io sono ottimista. Intanto oggi è una bella giornata perché stiamo dando la possibilità... Stiamo dando dignità al 118. Dignità al 118 ma anche ai cittadini perché è giusto salvaguardare la salute. Perché il 118 è una funzione importantissima perché sappiamo che loro salvano la vita umana. Con la loro tempestività di soccorso e con la loro urgenza intervengono a salvare vita umana. Quindi bisogna dare, come ha detto lei, dignità agli operatori. Dottore. Buongiorno. Una bellissima notizia oggi abbiamo ricevuto? Sì, insomma, almeno inaspettata. Devo dire che è oltre le migliori previsioni. Chiaramente noi avevamo una problematica importante. Una problematica intanto sulla viabilità. Il nostro servizio di emergenza urgenza. Per andare a salvare le vite il tempo è l'essenziale. Per due volte è bloccato tra l'altro in codice rosso le sirene acceso, bloccato dal traffico. Noi abbiamo avuto in questi mesi esperienze abbastanza drammatiche. Fortunatamente ce ne sono uscite con la professionalità che ci conta a distingue. Però era assolutamente inaccettabile. Ci voleva una soluzione. Questa è una soluzione temporanea che devo dire è abbastanza accattivante. Perché qua siamo in un contesto dove c'è la viabilità. Possiamo raggiungere subito tutti i centri. I locali sono ottimi, sono nuovi, sono perfettamente a norma. Quindi una bella risposta. Una bella risposta. Il problema è che una volta rientrati, speriamo di trovare un contesto sicuramente più dignitoso e più convacente alle nostre, quelle che sono le nostre caratteristiche. Sperando che non continuino le problematiche, perché stiamo parlando che non si può sempre inserire la tettoia. L'ambulanza non ha un cuore pulsante, ma ha sempre un cuore. E quindi con il caldo non ha un cuore strano. Noi, il problema delle alte temperature estive, la conservazione dei farmaci, nonché addirittura il funzionamento stesso elettro medicale è un problema assolutamente centrale. Qua chiaramente c'è la possibilità di mantenerci, almeno per i mesi estivi, sicuramente al coperto. Vediamo un pochino di sfruttare. Però sarebbe bene che oltre questo periodo di transitorio continuassimo per sempre. Siamo insieme al sindaco di Carini, Giovi Monteleone. Una bellissima notizia oggi. Guardi, naturalmente quando il territorio ha bisogno di un servizio urgente, il sindaco si prodiga per sicuramente assicurarlo. Noi avevamo, in base all'esigenza che c'era della viabilità lì all'ex ospedale, avevamo già predisposto, e già era stato impiantato un impianto per disorveglianza, in modo che controllasse tutte le macchine che abusivamente si introducevano alla zona di vieto di accesso, auto private. Purtroppo poi ieri ho saputo queste notizie che lì è ceduto pure il soffitto per la stanza del 118. Naturalmente non potevo privare il territorio di questo servizio, per cui pazienza, il centro anziani. L'apertura sarà rimandata all'autunno, visto che il dottor Brigano mi ha chiesto di adebire questa sede temporaneamente al 118. Stamattina già abbiamo provveduto, sono venuto tutti i servizi interessati, i servizi dell'elettrizia urbana, la ditta per fare superimpianti elettrici, gli uffici per i trasloghi, e quindi penso che entro la fine settimana siamo già pronti per poter ospitare la struttura del 113. Quello che però io adesso vi farò parte attiva, già avevo iniziato, poi ero in interlocuzione con l'assessore alla sanità, l'onorevole Volo, già avevo parlato del fatto del stato di degrado in cui già c'è il patrimonio, gli edifici immobili e sanitarie del comune di Carini. È un patrimonio che allora, quando era gestore, il comune di Carini lasciò un stato, diciamo, un ottimo stato, e che invece da allora, stiamo parlando da quasi 30 anni, non è stata fatta più di alcuna manutenzione, e sta effettivamente crollando. Avevo già notiziato l'assessore alcuni mesi fa di questo, adesso solleciterò l'assessore perché le ASP, gli uffici del patrimonio delle ASP, si prendano cura degli edifici che sono adibiti a prestare un servizio importante come quello della sanità. Poi è bene, approfitto di questa vostra intervista per dare un messaggio ai cittadini. Ognuno ha bisogno del rispetto dei ruoli, non è possibile che i comuni si debbano interessare, senza avere risorse umane, risorse economiche, anche a sostituirsi alle funzioni di altre istituzioni. Mancano i carabinieri, mancano le caserme, i comuni devono badare all'ospitale, le caserme delle carabinieri. Non è compito del comune, ma è compito del ministero, della difesa e dell'interno. Manca i vigili del fuoco, il comune è bene affitto a loro un capannone, per i vigili del fuoco, per la sicurezza della zona industriale e di tutto il territorio. E così per il collocamento, questo viene tutto sul peso dei contribuenti carinesi del comune di Carini. E questo non è accettabile, perché poi noi comuni siamo i sindaci, siamo i frontman, coloro che poi ci interfacciamo con la gente, la gente vuole risposta e le chiede sindaci. Siamo in prima linea, però non è giusto sovraccaricare e pensare che tutto possiamo fare noi, specialmente quando siamo senza risorse, umane, questo è importante, poco personale e pochissimi soldi. Allora, noi lo facciamo, perché sappiamo che sono servizi urgenti, però è bene che ognuno adesso si assuma le proprie responsabilità. Si è sentito abbandonato in questo periodo? Ma guardi, abbandonato io non voglio fare alla vittima, noi le facciamo le cose perché le dobbiamo fare, però è giusto che non c'è un limite, c'è un problema anche proprio, mancano le risorse, adesso noi dobbiamo trovare le risorse per questo, non è che, ed è difficile, dobbiamo andare ai fondi di riserva, a volte non ci sono e ci indebitiamo anche per questo. Ma oggi parliamo di una cosa bella oggi. No, ma attenzione, io sono, diciamo, orgoglioso del fatto che diamo delle risposte, però non sempre si possono dare in tempi rapidi, dico, ognuno deve assumere le responsabilità, non è possibile che i comuni si debbano sostituire ad altre istituzioni. Io devo smentire, perché oggi invece il sindaco ha dato una risposta celere, pronta, a servizio dei cittadini, come sempre. Io devo ringraziarlo pubblicamente, appunto per la prontezza della risposta. Grazie sindaco. Quando si tratta di servizi sanitari, la risposta deve essere per forza urgente, noi l'abbiamo. Da Teleiato, per il momento è tutto. Alle prossime notizie.